Un ricorso presentato da un cittadino al TAR della Sardegna e in tutti i collegi dell'isola Il cui esame è stato accolto dal Tribunale Civile di Sassari, rischia di creare il caos attorno alle elezioni regionali del 24 febbraio Il ricorso mette nel mirino 5 liste, 4 di centrodestra a sostegno di Cristian Solinas, Lega, Forza Italia, Sardegna Civica, Energie per l'Italia, e una di centrosinistra, Sardegna in Comune, che supporta Massimo Zeppa La contestazione riguarda la mancata raccolta delle firme necessarie per potersi presentare alle elezioni Gli schieramenti in questione si sono avvalsi di 5 consiglieri regionali uscenti grazie ai quali hanno avviato all'incombenza La procedura, in sé, è consentita dalla legge, e infatti chi ha presentato ricorso ha contestato nello specifico il fatto che ciascuno dei consiglieri in questione avrebbe fatto da garante a una lista per poi candidarsi dopo l'indizione dei comizi elettorali in un'altra Il ricorrente, che ha chiesto l'incandidabilità dei consiglieri e la ricusazione della lista d'appartenenza Ha contestato la mancata corrispondenza tra il contrassegno apposto sul modulo di accettazione della candidatura e quella del partito politico a cui il candidato alla carica di consigliere ha successivamente aderito Nel dettaglio, a Paolo Luigi Dessi, candidato uscente del partito sardo d'azione, viene imputato di aver presentato dichiarazione di accettazione della candidatura per la lista Lega Salvini Salvo poi ricandidarsi per il partito sardo d'azione nella circoscrizione Carbonia-Iglesias, abbiamo agito come previsto replica a Libero Almeno una decina di liste si sono comportate così Centrodestra e centrosinistra hanno fatto la stessa operazione Punto i 5 stelle no, perché non erano rappresentati in consiglio regionale Gianni Lampis, candidato a Medio Campidano per Fratelli d'Italia, avrebbe fatto da garante per Sardegna Civica Punto. Non può esser che un attacco studiato a tavolino da qualcuno commenta al nostro giornale Identiche contestazioni, ma che riguardano partiti diversi, per Antonello Paru, Forza Italia Il compagno di partito Marco Tedde che avrebbe fatto da garante per Energie per l'Italia e oggi risulta candidato per il partito di Berlusconi E per Valerio Meloni, in un primo momento a servizio di Sardegna un comune è poi finito nella lista del PD Nell'isola gira la voce che la richiesta di annullare le liste sia stata avanzata da un prestanome che avrebbe agito per conto di un politico di un importante partito Punto. L'udienza per la discussione è stata fissata a Sassari il 19 febbraio Per i cinque consiglieri inoltre il Tribunale di Oristano ha fissato un'udienza il 27 marzo per valutare eventuali violazioni di carattere penale Oltre al passaggio da un partito a un altro vuo è un ulteriore fronte che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote alla Lega Punto al commissario regionale, il deputato Eugenio Zofili, è stato contestato di non essere stato soggetto titolato a presentare le liste del carrocio nei vari comuni Il motivo? Nello statuto della Lega, per tale operazione, non sarebbe contemplata la figura del commissario Quando ho depositato il contrassegno nessuno mi ha detto niente Sinceramente è l'ultimo dei miei problemi e della faccenda se ne stanno occupando i legali della Lega, io mi sto interessando dei nostri pastori e del fatto che in certe zone manca la copertura telefonica anche per chiamare i numeri di emergenza